Il caso Unicredit riaccende la tensione su tutto il settore bancario. La banca prevede di registrare una perdita netta di 11,8 miliardi di euro per il 2016, in gran parte determinata dalle già annunciate pulizie straordinarie del bilancio, dai crediti deteriorati in sofferenza e dalle svalutazioni di alcuni asset come il Fondo Atlante, avviandosi così all'aumento di capitale da 13 miliardi che inizierà con ogni probabilità la settimana prossima. La BCE ha chiesto alla banca di presentare entro il 28 febbraio 2017 una strategia in materia di crediti deteriorati supportata da un piano operativo per affrontare la tematica dell'elevato livello dei prestiti difficili o impossibili da riscuotere, alimentando i timori che le autorità di politica monetaria potessero chiedere misure addizionali all'Istituto. Purtroppo queste cose le preventiviamo già da tempo e purtroppo la BCE è la stessa che ha messo le regole per le quali poi queste banche si trovano in queste condizioni. Quindi noi siamo convinti che ci sia un piano alle spalle, andiamo a controllare le vendite allo scoperto fatte sulle azioni di MPS e Unicredit in questi ultimi tre anni, vediamo da quali banche d'affari sono state fatte perché a quanto pare sono le stesse banche d'affari che faranno i servicer e probabilmente la cordata che darà quella parte di liquidità privata insieme a quella parte pubblica che arriverà sicuramente dallo Stato, purtroppo. Viste le garanzie sui conti correnti sotto i 100.000 euro, in caso di bail-in questi saranno garantiti? Sotto i 100.000 euro sì, per fortuna è una legge che esiste già dagli anni Ottanta, non è una legge nuova e sulla quale non si può andare contro. Ma secondo noi è incostituzionale operare un bail-in anche sopra i 100.000 euro perché sopra i 100.000 euro ci dovrebbe essere un giudice come stabilisce la legge anzi secondo me dovrebbero essere tutti tutelati ma dovrebbe esserci un giudice che decide non un'entità privata come Banca d'Italia che all'improvviso dice questa banca va a risoluzione e prende i soldi dei correntisti. Unicredit è solo l'ultimo caso di una lunga lista che mostra come il sistema bancario italiano sia al collasso sembra ormai inevitabile che l'Italia ricorrerà al Fondo Salva Stati cadendo così nelle mani della Troica il triunvirato formato dalla Banca Centrale Europea, Commissione Europea e Fondo Monetario trasformandoci in un paese commissariato come fu per la Grecia. Troppe rischi è questo se al governo ci sono ancora questi personaggi qui se dovessimo andare noi come Movimento 5 Stelle abbiamo già un piano chiaro e tutte le banche che vanno sotto, possiamo usare anche questo parametro della BCE, questo CET1 ma non il 12 tutte le banche che vanno sotto il 20% quindi di capitale primario di classione rispetto agli impieghi allora io come stato entro ma non ti do i soldi a pioggia senza sapere cosa c'è con un piano industriale che farai tu ti entro, ti nazionalizzo, metto in piedi una seria divisione tra banche d'affari e banche commerciali con una tutela del credito orientata all'interesse pubblico e non all'interesse privato e allora vedi che queste banche come avvenute in Svezia, anche in Inghilterra, Mervin King con Lloyd Bank e Royal Bank of Scotland è riuscita a risollevarle ma non dando soldi così all'oro ma entrando all'interno per un bel periodo di tempo Qual è però il guadagno a questo punto del governo per non nazionalizzare? Spero sia incapacità perché se no devo pensare male e non sarei l'unico, non sarebbe la prima volta che in Banca d'Italia ricordiamoci Fazio, Ricordiamoci Fiorani, Fulbetti del Quartierino che nel sistema bancario ci sia una cordata nascosta ombra dietro che mette in piedi delle azioni per far sì che queste banche si deprezzino per poi riconquistarle